Da gennaio, servizio anche a domicilio. Balanga colposa, è questa l'accusa di cui devono rispondere i due sciatori lecchesi individuati dai carabinieri del comando di Tirano come responsabili del cedimento del manto nevoso che si è verificato ieri intorno alle 13 sul versante settentrionale del monte Sobretta a Santa Caterina Valfurva a una quota di 2500 metri in località Lici di Plagueira. I due esperti sportivi, attrezzati di tutto punto, con sonda, pala e arva, avrebbero provocato l'incidente con un impudente fuori pista in neve fresca. La valanga, che ha sviluppato un fronte di circa 100 metri e uno scorrimento a valle di circa 300 metri, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Se in un primo momento si temeva al peggio per la presenza di una persona nell'area dell'incidente, l'esito negativo della bonifica della zona da parte degli uomini della settima delegazione Valtellina e Valchiavenna del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, supportati da un tecnico di risoccorso e dall'unità cinofila di ricerca, ha immediatamente fatto rientrare l'allarme. Ad essere risparmiate dal muro di neve anche le abitazioni dell'area e le piste del comprensorio. Sul posto, immediato l'intervento dei carabinieri sciatori della stazione di Bormio, in servizio di vigilanza e soccorso piste presso il comprensorio di Santa Caterina. Gli uomini dell'arma hanno così dato il via alle indagini, che hanno permesso di individuare i responsabili, che sono stati prontamente deferiti alla Procura della Repubblica di Sondrio per aver cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia il distacco della valanga con tutti i rischi connessi. Una vicenda finita fortunatamente senza gravi conseguenze, ma che deve fare da monito. I carabinieri hanno così rinnovato agli sportivi l'invito a non avventurarsi fuori pista e a tenere sempre in considerazione il rischio di distacco di valanghe, soprattutto dopo le precipitazioni nevose dei giorni scorsi. Gli uomini dell'arma, inoltre, ricordano che l'orario più a rischio è quello tra mezzogiorno e primo pomeriggio, in cui le temperature sono più umiti e i cedimenti del manto nevoso più frequenti.